Torna il 6 e 7 luglio a Enna la Scala della Moda, il concorso di bellezza organizzato all'Associazione Gente di Domani, giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione. Un'anteprima si è avuta nei giorni scorsi con la presenza in città di alcuni dei vincitori dell'ultima edizione che, accompagnati dallo staff organizzativo, hanno visitato alcuni dei luoghi più caratteristici del capoluogo e diverse attività commerciali, posando per foto e video. È stata anche organizzata una visita all'Urban Center alla presenza dell'assessore Giuseppe Laporta. Anche quest'anno è prevista la partecipazione al luglio di numerosi concorrenti, molti provenienti anche dall'estero. Ho sempre partecipato perché ho vissuto sempre esperienze bellissime, quindi non mi sono mai arreso nella prima, nella seconda, nella terza, nella quarta volta. Fino a quando ho vinto finalmente il primo posto, inaspettatamente, infatti è stata un'esperienza magnifica. Subito dopo Mister Moda Sicilia sono entrato alla finale del Bellissimo d'Italia, dove ho rivinto e confermato la fascia di Mister Sicilia nel 2023. Da lì poi sono passato alla finale di Mister Intima Italia, dove sono arrivato terzo, dove c'è stata tanta tanta competizione ed è stata molto bella. Dalla finale sono andata a Mandova, dove ho preso questa fascia. Il concorso della fotomodella italiana collabora con la Scala della Moda. Grazie a questa fascia sono andata a Lucca, Venezia, Milano, anche a Palermo. Successivamente andrò in altre sfilate come Bergamo, in Spagna, sia a Barcellona che a Madrid, poi a Dubai, che però ancora devo rifletterci, a Parigi e alla Milano Fashion Week a settembre. It was really a great pleasure to take part in a competition, I really enjoyed it, it was my first time and I always treasured this experience, it was really nice, I loved it. Io partecipo ai concorsi dal 2012, il primo concorso a cui ho partecipato e che ho vinto a livello nazionale è Miss Mamma Italiana. Da lì poi l'esperienza è stata talmente bella che mi sono divertita a partecipare in tutti questi anni, compreso questo bell'evento della Scala della Moda ed è il primo evento dove partecipano le over e ho vinto il titolo, quindi a maggior ragione mi sento onorata di questa vittoria. L'evento è aperto a partecipanti di tutte le età, in palio i titoli di Miss e Mister Moda Sicilia per i concorrenti di età compresa tra i 14 e i 32 anni, Baby e Junior Model Sicilia per bambini e adolescenti fino a 13 anni e Miss Over Moda Sicilia per partecipanti di età superiore a 33 anni. Saranno assegnate anche altre fasce, oltre alla possibilità di essere selezionati per altri concorsi di bellezza. Sicuramente saremo a fianco della Scala della Moda come ogni anno, ci saremo con il massimo che l'amministrazione potrà fare perché è un evento che certamente vale e che richiama e mette enna al centro del Mediterraneo sicuramente e dell'Italia. È un evento fisso dell'estate ennese senz'altro insieme a tutti quegli altri conici che ci sono come la settimana federigiana, come il Premio Neglia, come la Via dei Tesori, cioè sono delle scadenze fisse che speriamo di rispettare sempre come amministrazione. Quest'anno siamo alla 14esima edizione, sarà un finale molto partecipato, oltre che ci saranno i martesi, quest'anno c'è una concorrente dalla Polonia, una concorrente dalla Cina, una concorrente dalla Turchia, ci saranno moltissimi ospiti, la Marina sarà Eva Engers. Ringrazio veramente tutti gli iscritti e tutti gli associati del nostro concorso che veramente sta prendendo piede sempre di più. Malta è ormai diventata un nostro patiner ufficiale, titolare della Vipan Academy, si impegna ogni anno a portarci dei nuovi elementi che veramente sono validissimi, tanto è vero che per due anni di seguito la vincitrice ufficiale è stata maltese. Invito tutti ad iscriversi ancora entro il 30 giugno per le varie selezioni che avremo a fare, abbiamo fatto Manto, abbiamo fatto la Calabria, abbiamo fatto la Puglia, insomma, tante belle novità, quest'anno tante anche straniere, abbiamo le martesi, abbiamo delle cinesi, abbiamo delle rumene, insomma si sta allargando a livello internazionale bene. I due temi sociali, il tema del femminicidio, purtroppo in Italia si incrementa sempre di più, e il tema della pace, visto queste guerre che ancora non decidono di finire, stanno veramente inglobando tutto il mondo intero e speriamo che finisca il più presto possibile. Poi, come diceva il Presidente, Eva Henker come madrina, tante novità ci saranno a livello di flash di moda, insomma, sarà una meserata veramente sempre più grande delle precedenti.